E allora dammi occhi nuovi per vedere un cielo in più, per poter guardare un po' più su. I miei occhi oggi hanno visto di nuovo quanto il canto e il ballo possono unire tutte le culture e tutte le persone di qualsiasità e quanto questi bambini vedono in noi una speranza, la speranza di vivere e di stare con noi.